Cosa leggo qua? Cosa leggo qua? La giustizia è fatta, i milani li ha messi in Europa League. Sì, dai! Siamo in Europa League, finalmente la giustizia è fatta, perché questo è un obiettivo, un traguardo che ci avevano levato, conquistato sul campo, conquistato sul campo. E per parlare sia il presidente della Fiorentina meritavano l'oro, ma che meritavano l'oro. Vengono a casa nostra, perdono 5 a 1, meritano l'oro l'Europa League. Noi l'abbiamo meritata sul campo e questa è la giustizia. Noi siamo in Europa League, noi ce la dobbiamo giurare adesso. Grazie al fondo Elliot, che ha salvato dal cinese Yongong Li, che ora è stato poi indagato dalla Procura di Milano. Quello per noi alla fine si è dimostrato soltanto un male. Il mercato dell'anno scorso non ce lo dovrò scordare. Si crede che sono stati con i suoi soldi, ma dubbio che avevano solo i suoi soldi. Ora siamo in Europa League, ci dobbiamo vendicare dell'anno scorso come siamo usciti con l'Arsenal, ora ce la possiamo vendicare quest'anno. L'Europa League è nostra, la glistizia è fatta e sì, dai, andiamo in Europa League. E forza Milano, bene male, se volete un'altra live reaction, cliccate mi piace e poi condividete e commentate. E sempre forza Milano. Europa League è nostra.